Vediamo il bilancio delle potenze nel motore asincrono nel suo funzionamento a vuoto, quindi in assenza di carico meccanico. In queste condizioni sappiamo che la corrente assorbita dal rotore è uguale a zero, in quanto lo scorrimento viene ipotizzato uguale a zero. Se è zero la corrente nel rotore, sarà anche zero la corrente di reazione statorica I2'. Quindi entrambe le correnti sono uguali a zero. Da queste condizioni discende che la corrente assorbita dal motore, cioè quella erogata dall'alimentazione, la I1 sarà uguale alla sola corrente a vuoto I0. Quindi la I1 sarà in queste condizioni uguale alla sola corrente a vuoto I0, quella che attraversa i parametri trasversali. Se andiamo a determinare la potenza attiva assorbita dal motore in queste condizioni, risulterà sulle tre fasi essere uguale a tre volte la potenza della singola fase, quindi tre volte V1F I0 coseno di FI0, fattore di potenza a vuoto del motore, tenendo conto della relazione fra tensioni di fase. Intanto abbiamo che il fattore di potenza a vuoto, il FI0 rappresenta l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente del circuito equivalente a vuoto e quindi rappresenta l'angolo di sfasamento tra la tensione di alimentazione V1F e la corrente a vuoto assorbita I0. Stavo dicendo, quindi riportando alle tensioni concatenate di alimentazione, quindi abbiamo la V1F data da V1 fratto radice di 3, quindi abbiamo la semplificazione del 3 con la radice di 3 e arriviamo alla classica formula del calcolo della potenza attiva per un carico trifase, radice di 3 V1I0 coseno di FI0 con V1 tensione concatenata I0 corrente di linea e coseno di potenza. Nel funzionamento a vuoto abbiamo che la potenza resa dal motore sarà uguale a zero. Perché la potenza resa è uguale a zero? Perché non essendoci carico meccanico non c'è nessun trasferimento di potenza al carico e quindi la potenza resa, per come è definita, sarà ovviamente uguale a zero. Quindi adesso andiamo a evidenziare questa considerazione, il funzionamento a vuoto, la potenza resa dal motore è uguale a zero. Se è zero la potenza resa, ovviamente sarà zero anche il rendimento del motore nel funzionamento a vuoto, avendo che l'espressione del rendimento generale è PR potenza resa diviso la potenza assorbita, in questo caso, richiamo con PA, sarebbe la nostra P0, nel nostro caso è zero diviso la potenza assorbita, quindi ovviamente uguale a zero. Il risultato, quindi il rendimento del motore nel suo funzionamento a vuoto è uguale a zero. Anche questa importante deduzione la evidenziamo. Adesso vediamo quindi le componenti della potenza assorbita. La potenza assorbita, P0, sarà data soltanto, essendo una potenza attiva, sarà data soltanto da potenza che viene persa nel motore, nel suo funzionamento a vuoto, non avendo potenza resa dal motore stesso. Quindi potenza persa significa perdite. Quindi adesso andiamo a determinare quali sono le perdite nel funzionamento a vuoto del motore. Se osserviamo il circuito equivalente, le perdite risultano facilmente individuabili. Abbiamo perdite nel rame nella resistenza degli avvolgimenti statorici, quindi per le tre fasi abbiamo tre volte R1 per I0 al quadrato, la corrente assorbita dal motore, quella che scorre negli avvolgimenti, e questa rappresenta, abbiamo detto, le perdite nel rame. Le indichiamo con PG0 per i tenere rame a vuoto. Abbiamo le perdite nel rame. Un'altra componente delle perdite è data dalle perdite nel ferro, quindi quelle dovute a esterici e correnti parassite, che possiamo esprimere in dipendenti sulle singole fasi, oppure, rimandiamo a dopo l'analisi per singola fase, complessivamente il valore delle perdite nel ferro nelle tre fasi è uguale a G0 V1 al quadrato con V1 tensione concatenata di alimentazione. Dopo vedremo come dimostrare questa espressione, che per adesso lasciamo nella sua forma semplice. Queste sono le perdite nel ferro, le indichiamo con PF, le perdite nel ferro che si hanno nel funzionamento a vuoto. Le altre perdite presenti nel funzionamento a vuoto sono le perdite per attrito e ventilazione, quindi perdite meccaniche dovute all'attrito sui cuscinetti sui quali ruota il rotore e l'attrito dell'aria nella rotazione del rotore stesso. Quindi abbiamo le perdite meccaniche che indichiamo con la sigla PAV. Adesso possiamo andare ad analizzare, come stavo dicendo, le perdite nel ferro per determinarne l'espressione. Quindi abbiamo che le perdite nel ferro rispetto al circuito monofase saranno tre volte le perdite per singola fase, quindi tre volte G0 per E1 al quadrato, la tensione ai capi di G0. Se approssimiamo la E1 con la tensione di alimentazione V1F, facciamo questa piccola approssimazione che semplifica i calcoli, abbiamo che il valore del perdite nel ferro è 3G0V1F al quadrato, quindi passando alla tensione concatenata abbiamo 3G0V1 diviso radice di 3, il tutto al quadrato, quindi abbiamo V1 al quadrato, la radice di 3 al quadrato è 3, che si semplifica con il 3, che rappresenta le tre fasi, quindi alla fine otteniamo l'espressione G0V1 al quadrato, che è quella che abbiamo indicato nell'espressione generale delle perdite nel ferro. Quindi qui abbiamo dimostrato il valore delle perdite nel ferro.